Ammanistia è una attenzione maggiore e preponderante sull'igiene e la salute della popolazione carceraria. Questa mattina l'Associazione Radicale per la Grande Napoli ha manifestato davanti al carcere di Poggio Reale in concomitanza con il dibattito alle Camere sul messaggio del Presidente Giorgio Napolitano a onorevoli e senatori sulla situazione carceraria in Italia. Poggio Reale, luogo simbolo delle proteste per la dignità dei carcerati, è stata negli ultimi tempi al centro di numerosi eventi legati alle condizioni di salute dei detenuti che hanno ricevuto anche risposte da membri delle istituzioni. Ai nostri microfoni è intervenuto Luigi Mazzotta dei Radicali Italiani per spiegare richieste e progetti di intervento. Stamattina siamo qui davanti al carcere di Poggio Reale in concomitanza ad un'altra manifestazione che si sta tenendo a Roma davanti Piazza Montecitorio per la discussione in Parlamento del messaggio del Presidente della Repubblica che risale già dal mese di ottobre. Chiaramente noi stiamo denunciando lo stato inumano e degradante che vivono i detenuti all'interno di tutte le carceri italiane e ricordiamolo l'articolo 3 e anche quello 6 della Corte Europea Penale che ci condanna per il numero dei processi irragionevoli che ci sono qui in Italia. Vogliamo sperare che oggi nasca qualcosa di positivo, si possa affermare un indulto e soprattutto ci tengo a ribadire che noi stiamo denunciando la situazione degli ammalati che ci sono nelle carceri, in particolar modo Poggio Reale dove sono oltre 300 le richieste dei detenuti che dovrebbero essere operati chirurgicamente presso le strutture sanitarie.